Nella rocca costruita nel 1406, di cui si vedono i resti sopra il paese, Gabriele D'Annunzio ambientò il suo romanzo La fiaccola sotto il moggio, scritta nel 1904, ambientata negli anni in cui venne demolito il potere dei feudatari nel Mezzogiorno e come loro anche i personaggi della tragedia d'Annunziana, decaduti dalla ricchezza, non costituivano più un ordine privilegiato e separato, imborgesendosi nella mentalità e nel costume. Anversa degli Abruzzi, Anverse in abruzzese, è un comune della provincia dell'Aquila i cui abitanti sono detti Anversani. Fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel territorio del comune si trovano la riserva naturale guidata delle gole del Sagittario e la frazione di Castrovalva. Il feudo nel 1000 appartiene ai normanni che edificarono il castello e alla diocesi di Sulmona. Risalgono a questo periodo i primi nuclei religiosi di San Cesidio di Castrovalva e Santa Maria ad Nives. Il feudo di Anversa nel catalogo dei baroni nel 1100 era Castrovalva. Il nome medievale Anversa risale invece alla posizione del borgo verso la valle e il fiume del Sagittario ad Amnen versus. Durante l'impero Svevo Federico II si trovò a lottare contro il conte Tommaso che aveva fatto affidamento sullo zio Reinaldo. Dopo la loro sconfitta il feudo di Anversa fu ceduto al giovane Reinaldo che fondò la contea del borgo. Il borgo di Anversa degli Abruzzi presidia da secoli un'incantevole valle degli Appennini dove l'ambiente, il paesaggio, la storia, le arti e la cultura si incontrano e si fondono attraverso molteplici sfumature. Sicuramente tutto dipende dal contesto territoriale caratterizzato da panorami emozionanti, rupi montane, morbide faggete, innumerevoli sorgenti, il percorso del fiume, le antiche case, le ripide scalinate, il respiro del passato insomma. Sin dall'antichità gli abitanti peligni della valle del Sagittario, in origine denominata Flaturno lasciarono tracce significative. Le necropoli italiche, la via Salara di epoca romana che dalla piana di Sulmona risaliva verso Scanno, la tomba del fanciullino del V secolo nella strettoia delle gole, le coltivazioni di vigneti ed oliveti introdotte dai monaci benedettini, la lunga presenza in zona di San Domenico Abate, tra Villa Lago e Cocullo, il Castello Normanno, la solida schiera di case e mura dei maestri lombardi e le splendide chiese. E anche i feudatari hanno lasciato belle testimonianze urbanistiche, architettoniche ed artistiche. Inoltre, a metà del 1500, qui si svilupparono la lavorazione della ceramica artistica, grazie all'ottima argilla disponibile nel fondo valle e ai valenti artigiani locali e alla prestigiosa accademia degli addormentati, fondata dal conte Belprato, un vero e proprio cenacolo artistico che ospitò anche personaggi illustri come Torquato Tasso.